Ah, salve, sono qui per fare la prova di lavoro. Sì, era ora però, dai, vieni con me. Ho due spritza però da fare, per favore mi tagli le fette d'arancia che sono finite, grazie, gentilissima. Oh, Ciccio, intanto calma che non sono lato a sguattera io, hai capito? Seconda cosa, prendi le arance dei bicchieri sporchi, invece che buttarle le mettiamo nei bicchieri puliti. Hai capito come si fa? Eh no, voglio dire, dobbiamo buttarle, tanto c'è un solo bevuto nei bicchieri, mica mi hanno staccato le arance. Hai capito? Certo. Quanti erano? Due? Ok. No, mi è finita la bottiglia. Senti, scusi, mi è finita la bottiglia di... Allora, fai così, prendi un altro amaro simile e mettiglielo dentro. Tanto non se ne accorgono mica, sai. Non se ne accorgono, dice? Cosa vuoi che se ne accorgono? Va bene. Sì, arrivo signora. È pronto il Deca per la signora? Porca miseria, mi sono sbagliata e glielo ho fatto normale. Però lo voleva Deca, non normale. Ah, senti Ciccio, zitta, va bene? Eh, se mi sbaglio cosa faccio? Lo butto? Sprechiamo i soldi così? Dai, ma taglielo come Deca, vedete. Sì, ci mancherebbe, certo. Allora, mi hanno chiesto tre vassoie di stuzzichini, per favore. Senti, ti faccio vedere come si fanno gli stuzzichini. Prendi il vassoie, poi prendi questa roba qui e la devi mettere sporco giù da cane. Porca miseria, ladra. Aspetta, rimettiamola sul vassoio, dai. Ma sono caduta per terra, sono piena di polvere, di caffè, di schifezza. Senti, ci soffi sopra e la rimetti lì. Capito, la devo buttare, non lo so. Cosa facciamo? C'era un bicchiere sporco di rossetto e la signora si è lamentata. Oh, ma cosa fai? Glielo cambio. Ma non vedi che non abbiamo bicchieri, pulisciglielo un po' così, dai, col ditto, dai, daglielo. Io me ne vado da qua, non ci posso stare. Ecco, è meglio che te ne vai tu, guarda. Tanto io non ti pago neanche la settimana, guarda. Grazie.